Palazzo Laskaris apre al pubblico. In occasione di portici di carta, sabato 6 ottobre, la sede del Consiglio regionale del Piemonte sarà visitabile per consentire ai cittadini di scoprire le testimonianze d'arte custodite nell'edificio barocco. Ad arricchire l'offerta in programma saranno alcuni momenti incentrati su storie e tradizioni dell'Afghanistan, protagonista della mostra allestita nella galleria Carla Spagnuolo. Si tratta di rari e straordinari tappeti realizzati da manifatture nomadi e di villaggi dopo l'invasione sovietica del paese. Nel cortile d'onore del palazzo si svolgerà poi una dimostrazione di tessitura con un telaio tradizionale, mentre in sala dei presidenti si assisterà a fotografie dell'Afghanistan, una testimonianza di Silvio Pasciarella, giornalista della prealpina. Palazzo Laskaris resterà aperto dalle 15 alle 20 con ingresso gratuito.